Il martedì come sapete c'è uno spazio dedicato agli amanti degli animali ma in un certo senso anche dell'ambiente in generale perché quando si ama un animale si ama anche sicuramente l'ambiente stesso così come il nostro ospite Edgar Mayer, giornalista di Milano Buonasera che è uno dei fondatori anche di un'associazione, l'associazione che nasce nel 1995 stiamo parlando di Gaia, l'associazione attiva proprio nella difesa dell'ambiente e degli animali giusto? Sì, nasce nel 1995, detto bene, quindi eravamo un po' più giovani adesso siamo meno giovani ma carichi di esperienza e con lo stesso entusiasmo di quando abbiamo iniziato Come è iniziata? Ma è iniziata con un gruppo di persone che erano già attive sul territorio di Milano appunto per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei diritti animali e diciamo abbiamo preso un po' nel 1995 i migliori di ogni associazione perché ci siamo riuniti doveva diventare una super associazione poi in realtà è diventata un'associazione normalissima che è Gaia Animali Ambiente spinti appunto dal grande entusiasmo per la salvaguardia animale e la tutela dell'ambiente per l'appunto Gaia non a caso perché Gaia è il pianeta Terra, è la casa di tutti noi il nostro obiettivo è quello di tenere in ordine la nostra casa cioè quando la nostra casa è in ordine siamo più contenti tutti quanti quando invece c'è disordine o casino per usare un termine scientifico in genere è più facile litigare allora noi diciamo siamo tutti ospiti del pianeta Terra di Gaia appunto uomini e altri animali non a caso dico altri animali perché anche noi facciamo parte del regno animale cioè certe volte noi ci dimentichiamo questo fatto pensiamo che l'uomo sia qualcosa al di fuori e al di sopra soprattutto invece no, facciamo parte del regno animale siamo dei mammiferi come tutti gli altri viviamo sul pianeta Terra cerchiamo di tenere pulito in ordine il nostro ecosistema nostro e di tutti gli altri animali che lo abitano quindi rispettare questo equilibrio naturale che c'è dalla notte dei tempi che purtroppo l'uomo sta da facendo esatto, rispetto è proprio il termine che qualifica l'associazione Gaia rispetto per noi, per la nostra salute, per il nostro pianeta quindi la nostra casa e rispetto per tutti gli altri animali e così si vive meglio noi cerchiamo appunto di propagandare un equilibrato rapporto uomo-altri animali e lo propagandate anche attraverso degli sportelli l'ultimo è stato aperto la scorsa settimana proprio qui a Brescia Gaialex Gaialex è una delle cose di cui siamo ovviamente molto orgogliosi è un centro di azione giuridica cioè la tutela dell'ambiente e dei diritti animali si fa anche attraverso gli avvocati perché purtroppo quando non arriva il buonsenso intervengono gli avvocati quindi ci sono molti litigi noi riceviamo una cinquantina di mail al giorno ovviamente da tutta Italia su questioni per esempio di rapporti di vicinato mi stava crollando il simbolo di Gaia persone che litigano per esempio che ci chiamano o ci scrivono mail e ci dicono il mio vicino di casa non sopporta il mio cane e quindi vuole che io me ne sbarazzi piuttosto che l'amministrazione di condominio l'amministratore mi ha mandato una letterace e dice che non posso più tenere il gatto allora in quel caso noi diamo delle piccole consulenze gratuite e spieghiamo che cosa dice la legge però non sempre sono sufficienti le consulenze gratuite qualche volta devono intervenire gli avvocati ecco allora Gaia Lex appunto centro di azione giuridica per gli animali e per l'ambiente che abbiamo in tante, praticamente tutte le regioni d'Italia stiamo cercando di aprire in tutte le province settimana scorsa grazie all'ausilio dell'avvocato Alessandro Piardi quindi è stato aperto lo sportello appunto anche a Brescia quindi Gaia Lex Brescia ci fai un esempio? per esempio io leggevo di questo cane sovrappeso che purtroppo non poteva prendere l'ascensore perché i condomini non volevano e quindi la padrona e il cane stesso dovevano farsi cinque piani a piedi eh sì, questo è appunto un esempio che tra l'altro raccontiamo in Quattro Zampi in Tribunale che è il nostro librettino che raccoglie un po' di queste storie anche perché sappiamo benissimo che la legge, la normativa in genere è abbastanza noiosa gli avvocati s'arrabbiano tantissimo quando io dico questo però in effetti andarsi a leggere le normative insomma è sempre una cosa un po' pesante allora noi abbiamo scritto questo librino che racconta una serie di storie anche divertenti cioè qualche volta divertenti qualche volta drammatiche qualche volta che si concludono bene qualche volta si concludono male e poi spieghiamo la legge allora l'esempio che hai citato è quello di un cagnolone un mastinone napoletano di quelli simpatici certo grossi, cento chili di cane cucciolone però in genere molto bravi a cui l'assemblea di condominio aveva chiuso le porte in faccia dell'ascensore cioè fisicamente lui non poteva più entrare in ascensore perché l'assemblea di condominio gli aveva vietato l'uso dell'ascensore questo perché pesava troppo? no, la motivazione era che perdeva peli e perdeva bava e quindi per motivazioni diciamo tra virgolette estetiche è stato dimostrato però questa è una cosa che l'assemblea di condominio può fare nel senso che per tornare alla legge quindi alle normative le assemblee di condominio normano proprio gli spazi comuni mai si può imporre a una persona di disfarsi del proprio cane o del proprio gatto cioè proprio fuori legge non esiste però è possibile è possibile normare che ne so l'utilizzo delle scale dell'ascensore dei cortili gli spazi comuni in quel caso lì però grazie al supporto di un veterinario che ha spiegato che Tom mi sembra che si chiamasse Tobia Tobia braissimo non avrebbe potuto siccome Cucciolone durata di vita almeno dieci anni vogliamo darglieli non avrebbe potuto fare le scale dal quinto piano su e giù per almeno tre volte al giorno perché un cane va portato in passeggiata tre volte al giorno perché avrebbe subito dei traumi alla colonna vertebrale e quindi si poteva configurare un'induzione al maltrattamento di animali per cui alla fine l'assemblea di condominio ha riconosciuto e ha detto va bene effettivamente noi non vogliamo incorrere nel reato di maltrattamento di animali per cui i proprietari di Tobia hanno firmato una sorta di piccola scrittura privata dove dicevano puliamo tutte le volte i pochi peli che Tobia lascia però anche perché mi chiedo quanti peli possa perdere un cane facendo cinque piani di scale infatti appunto il buonsenso quello che noi cerchiamo di fare intervenire con le nostre consulenze per l'appunto benissimo questo libro dove si può trovare? beh questo libro si trova nelle migliori biblioteche d'Italia le librerie in realtà è una edizione di un anno e mezzo fa e quindi va probabilmente chiesta all'editore che è stampa alternativa perché una cosa di cui siamo molto orgogliosi come Gai Animali Ambiente è che abbiamo questa collana editoriale quindi si può richiedere a noi andando sul sito e quindi vedendo la nostra mail direttamente oppure all'editore che è stampa alternativa ho sentito che prima parlevate di ricette vegetariane l'ultimo libro uscito un mese fa si chiama Vongole Felici è sempre di questa collana quindi riconoscibile per questi librini gialli con il titolo rosso Vongole Felici è tutta una raccolta di ricette addirittura vegane oltre che vegetariane quindi succulente sane gustose e buonissime noi appunto ci occupiamo di diritti animali salvaguardia ambientale ma anche tutela della salute umana sosteniamo che la dieta vegetariana sia quella più salutare anche per la nostra salute oltre che per la salute dell'ambiente e ovviamente per la salute degli animali così come le vongole rimangono felici a sguazzare in mare e non vengono pescate e non vengono mangiate è un impegno importante il vostro soprattutto per quanto riguarda il dirimere queste questioni che a volte sono un classico appunto il cane che abbaia infastidisce i vicini il cane che magari morde il postino quando arriva a lasciare la posta quindi sono spaccati di vita che sono evidentemente molto più diffusi di quanto si possa pensare sono diffusissimi soltanto i litigi di condominio noi sappiamo perché è uscita una ricerca della maggiore associazione di amministratori di condominio dice che il 91% di amministratori di condominio almeno una volta nella carriera ha dovuto occuparsi di litigi condominali dove al centro c'era un animale tra l'altro quello che è abbastanza divertente o forse non tanto divertente in realtà sta triste gli animali sono spesso al centro di litigi ma non sono i veri responsabili del litigio cioè si cerca di colpire il vicino che ci sta antipatico ci sono ruggini esatto ruggini preesistenti si colpisce l'animale cercando di colpire la famiglia molto spesso e noi in quel caso appunto laddove è possibile interveniamo a tutela ovviamente dell'animale e quindi della famiglia che ha l'animale però ha dei diritti animali perché non è giusto che nelle nostre questioni e nei nostri litigi ci vadano di mezzo gli animali è anche vero che un animale non è mai maleducato al massimo è il padrone il problema nasce dal guinzaglio in su diciamo sempre noi per quello che riguarda i cani o la maleducazione di alcuni proprietari di animali che indubbiamente c'è e quindi anche sotto quell'aspetto noi cerchiamo di fare cultura e sensibilizzazione ma mai devono andare di mezzo gli animali che sono vittime inconsapevoli dei nostri litigi benissimo il sito è molto ricco di informazioni ci vuoi dare qualche successo di Gaia? noi siamo un'associazione che fa appunto sensibilizzazioni sia dal punto di vista di ragazzi di strada siamo nati come ragazzi di strada e quindi abbiamo fatto tantissime manifestazioni continuiamo a fare manifestazioni qualche volta spettacolari abbiamo scalato il macello di Milano per sensibilizzare questo lo facciamo soprattutto a Pasqua o a Natale quando diciamo appunto proviamo a passare una Pasqua o un Natale con ricette vegetariane invece che col solito zampone piuttosto che la Pasqua col capretto e l'agnello quindi un successo è quello che pian pianino c'è sensibilizzazione e c'è sempre minor consumo di carne anche se in maniera troppo lenta rispetto a quello che vogliamo noi ma questo lo diciamo anche come successo di Gaia per la nostra salute inutile ricordare che Umberto Veronesi che è il maggiore oncologo che abbiamo in Italia e forse in Europa cioè la persona che più di tutte in Italia e in Europa ha dedicato la sua vita a combattere il tumore è vegetariano è vegetariano per motivi etici e per motivi di salute allora lo dice Umberto Veronesi non solo Edgar Mayer dell'associazione Gaia un altro successo è ci avviciniamo all'estate per fortuna gli abbandoni sono in diminuzione sempre troppi ma sono in diminuzione questo è un successo ovviamente non solo di Gaia ma di tutte le associazioni e le istituzioni che fanno campagne benissimo noi ti ringraziamo grazie per essere stato nostro ospite e tra l'altro sei molto televisivo la cosa ci garba parecchio Edgar Mayer ricordiamo il libro 4 zampe in tribunale molto molto carino e il sito gaiaitalia.it dove possiamo ritrovare tutte le informazioni e naturalmente anche di questo nuovo ufficio sportello Gaialex Gaialex e Bresciano dove si trova Brescia? domanda difficile l'avvocato Piardi e lo studio dell'avvocato Piardi francamente non so dove però basta scrivere a segreteria.gaia.it fastwebnet.it e noi le indicazioni di Brescia le mandiamo a lui grazie ancora ci fermiamo qui a tra poco grazie a tutti